Avevano partecipato alla competizione della Capitale Europea 2019, vinta poi da Matera. Dal prossimo anno saranno una città all'anno e davvero uno straordinario modo di investire su quel straordinario museo diffuso che è l'Italia, il paese che non ha soltanto una grande capitale o alcune grandi città, ma ha le cento città d'arte, i mille borghi e la competizione sarà sempre più virtuosa e abituerà gli italiani a vedere la bellezza che molto spesso non vedono più, anche se attorno a loro. E ha parlato anche di finanziamenti per qualsiasi città. Certo, ci sarà un milione per ognuna.